Non ci sono feriti gravi nell'incidente avvenuto nella serata sui binari del tratto Napoli-Campo Basso. Il treno che arrivava nel capoluogo partito dalla città partenopea si è scontrato con un tir che gli ha attraversato la strada al passaggio a livello di Campo Chiaro. Un impatto violentissimo tra il rimorchio del camion e la motrice che arrivava in quell'istante. I passeggeri che erano nei vagoni sono stati sbalzati a terra dai sedili ma per fortuna solo qualcuno ha riportato contusioni leggere. Stessa sorte per il macchinista del treno rimasto a lungo sotto shock ma anche egli illeso. Come illeso è rimasto il camionista finito con la motrice del suo tir in un dirupo dopo essere stato colpito dai vagoni. Non è ancora chiaro se in quel momento il passaggio a livello fosse del tutto aperto oppure se l'autista del tir abbia compiuto una manovra azzardata. Fatto è che all'improvviso il macchinista del treno si è trovato il mezzo pesante davanti proprio mentre arrivava. L'impatto è stato inevitabile, la circostanza fortunata è stata determinata dal fatto che la cabina del camion aveva già oltrepassato i binari. Nell'urto il treno ha trascinato sul percorso il rimorchio per un centinaio di metri mentre la parte anteriore del mezzo pesante è finita in una scarpata. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco i passeggeri hanno atteso a lungo l'arrivo di un mezzo che li ha accompagnati a Campobasso. Stando ad alcune testimonianze non è la prima volta che a quel passaggio a livello accadono episodi del genere e questo nonostante il transito dei treni sia tutt'altro che frequente. La dinamica dell'accaduto e i mezzi accartocciati dicono che anche stavolta il bilancio è stato più che leggero. Qualche contusione, è solo un grande spavento e mezzi distrutti ma è ormai sotto gli occhi di tutti che la rete ferroviaria del Molise è sgangherata e indecorosa e finora la fortuna ha tenuto chiuso un solo occhio. Buonasera cari amici di Telemolise, ben trovati, anzi ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo ancora delle nomine firmate il giorno di San Silvestro dal governatore Paolo Frattura sulle quali ci sono state già dure contestazioni nei giorni scorsi. Oggi il Movimento 5 Stelle ha annunciato una mozione contro gli incarichi affidati a Cacciavillani, Brasiello e Lalli. Nel mirino anche una linea politica che non ha segnato un cambio di rotta rispetto al passato. Come ha sottolineato in casa PD anche il deputato Danilo Leva. Giovanni Di Tota. Una mozione subito a breve, una proposta di legge. Il Movimento 5 Stelle prova ad alzare un argine dai banchi dell'opposizione a Palazzo Moffa contro le nomine. In particolare Antonio Federico e Patrizia Manzo se la sono presa con quelle che hanno definito nomine regolate da un unico metodo, a contentare e distribuire poltrone e incarichi a compagni di partito e amici. Gli incarichi ai quali si riferiscono i consiglieri di 5 Stelle sono quelli di fine anno firmati dal governatore a favore di Maurizio Cacciavillani, vice sindaco di Agnone, per il quale si è aperta la porta della presidenza di Molise Dati. La delibera con cui Manuel Brasiello, fratello dell'ex sindaco di Isernia Luigi, affondato a metà legislatura dal fuoco amico del PD, è stato chiamato a guidare l'Agenzia per la ricostruzione e infine la super consulenza affidata a Carmela Lalli, 90 mila euro l'anno e spiccioli, per occuparsi delle società partecipate della regione. Per quanto riguarda Cacciavillani, sostengono i 5 Stelle, si pone un problema di incompatibilità. Il vice sindaco di Agnone, dicono gli esponenti del movimento di Grillo, dovrà scegliere se continuare a fare l'assessore, ruolo per il quale è stato votato dai cittadini o il presidente di Molise Dati. Sul piano politico i grillini hanno voluto mettere in evidenza il mancato cambio di rotta del governo di centrosinistra rispetto al passato. Le nomine, hanno rimarcato i 5 Stelle, sono la palese dimostrazione che il centrosinistra molisano continua a lavorare nello stesso solco, un sistema per cui conta più una tessera di partito che un curriculum. Un concetto ribadito perfino fuori dall'hotel Europa Isernia dal deputato Danilo Leva, mentre all'interno della sala andava in scena l'assemblea regionale del Partito Democratico. Non è quello che abbiamo promesso in campagna elettorale ai cittadini, ha sottolineato Leva. Il tema non è che il governo Frattura ha risparmiato qualche migliaio d'euro, ha ribadito il deputato del PD, ma il fatto che il governatore che rappresenta il centrosinistra le consulenze d'oro non avrebbe proprio dovuto farle. I 5 Stelle regionali dal canto loro hanno annunciato che a breve presenteranno una proposta di legge partecipata per il riordino del sistema delle nomine. Si è aperta questa mattina a Bari l'udienza preliminare per la vicenda del presunto ricatto al governatore del Molise Paolo di Laura Frattura. Imputati la sottoscritta e il magistrato Fabio Papa. Si sono costituiti parte civile la Regione Molise, il Ministero della Giustizia, il governatore Paolo Frattura, l'ex questore di Campobasso Giancarlo Pozzo. A inizio udienza. l'accusa. Il PM Pasquale Drago ha chiesto la modifica del capo di imputazione, ipotizzando che la cena durante la quale si sarebbe consumato il tentativo di estorsione non sarebbe avvenuta più nel mese, specificatamente nel mese di ottobre, bensì nell'autunno del 2013. Il giudice dell'udienza preliminare Antonio Diella ha quindi concesso i termini a difesa come per legge e si tornerà in aula il prossimo 3 marzo. Cambiamo argomento. Ex esattorie, polemiche e proteste per le decisioni assunte dalla società che si è aggiudicata il bando regionale per la riscossione dei tributi. Non avrebbe rispettato i criteri stabiliti dall'appalto per l'assunzione del personale di ex esattorie. Sentiamo il servizio. La RT, aggiudicataria della gara regionale per la riscossione dei tributi, non starebbe mantenendo fede agli impegni sottoscritti per la riassunzione del personale dell'ex esattorie. Il grido d'allarme e le proteste arrivano da numerosi ex dipendenti della società dei fratelli Marcucci che lamentano favoritismi e abusi. In particolare i lavoratori rimasti fuori affermano che l'azienda aggiudicataria del bando per la riscossione dei tributi locali della regione molise, la RTI, dopo i colloqui individuali ha contattato per le assunzioni solo 6 persone su 68, la cui scelta, dispetto di quanto contenuto nel bando, non corrisponderebbe a nessun criterio, né di anzianità né di esperienza professionale. La RT, infatti, si sarebbe aggiudicata alla gara presentando un'offerta che prevedeva il totale riassorbimento nel tempo degli ex dipendenti di esattorie SPA, prendendo così, anche grazie a questo criterio, il punteggio più alto. Ad oggi però, dicono gli ex dipendenti, le persone riassunte sono solo 6, ben inferiori al numero che avrebbe assunto l'ultima azienda in graduatoria, Equitalia, che subito avrebbe ripreso in servizio 14 unità. Senza contare, chiudono gli esclusi, che tra i 6 prescelti c'è anche una persona con appena un anno e mezzo di anzianità, rispetto ai 25 anni di molti ex dipendenti restati fuori. Insomma, l'ennesima presa in giro di un governo regionale che ha lasciato passare due anni senza fare nulla e che continua a mietere vittime tra i lavoratori molisani. La gran parte dei comuni nel frattempo si è organizzata autonomamente o si è affidata a Equitalia. La giustificazione data agli esclusi sarebbe stata quella che, potendo contare solo sulla discussione del bollo auto, non si sarebbe potuto mantenere fede all'impegno di assumere subito una quantità di personale almeno uguale a quella garantita da Equitalia, ma di aver comunque programmato 14 assunzioni, 6 subito e 8 a seguire. Ma c'è anche da aggiungere che se l'unico servizio attualmente in funzione è quello del bollo auto, nessuno tra gli ex esattorie che curava il bollo auto è stato assunto. Insomma, un gran pasticcio che porta la firma di Petraroia, ex responsabile del lavoro e del governatore. Per questo gran parte degli ex dipendenti, delusi e amareggiati, non si fida e si sta organizzando pensando di presentare un ricorso legale per far annullare l'affidamento all'RT, con la motivazione che il criterio del riassorbimento del personale è stato clamorosamente violato e per questo la gara è da rifare. Vedremo quello che accadrà, ma l'impressione è che si tratti dell'ennesimo contratto firmato ai danni dei lavoratori molisani. Intanto, a partire da oggi, sono a disposizione delle regioni che ne avevano fatto richiesta le risorse necessarie a soddisfare le competenze residue relative al 2015 per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga. Infatti operativo il decreto firmato dai ministri del lavoro Giuliano Poletti e dell'economia Piercarlo Padoan, anche il Molise è tra le regioni richiedenti. E si sono svolti oggi ad Agnone, nella chiesa di Sant'Emidio, i funerali della donna di 61 anni deceduta al pronto soccorso di Isernia dopo quattro giorni passati nell'attesa di essere trasferita nel reparto di medicina. La direzione regionale della salute ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze di quanto accaduto e martedì prossimo andranno a Isernia gli ispettori della regione per ascoltare il primario del pronto soccorso. Il dottor Lucio Pastore, un fascicolo contro ignoti invece, è stato aperto dalla procura. Parliamo di scuola. Ci sono novità in vista per la San Giovanni Bosco di Isernia. Presto i bambini della primaria saranno infatti trasferiti in un nuovo stabile ma non torneranno da Cicchetti. Lo ha detto il commissario Saladino durante un incontro convocato anche per fare chiarezza sulle vicende della segreteria comunale e del personale part-time. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. In tempi ragionevoli i bambini della scuola primaria della San Giovanni Bosco traslocheranno dalla vecchia sede ma non torneranno nell'edificio messo a disposizione da Cicchetti bensì in un altro stabile. Lo ha annunciato il commissario al comune di Sernia Vittorio Saladino durante un incontro convocato per fare chiarezza sulle polemiche generate da una serie di provvedimenti assunti negli ultimi mesi. Abbiamo individuato Cicchetti. Questa soluzione non sta bene ai genitori dei bambini. Stiamo provvedendo nell'immediato altre soluzioni che abbiano i requisiti di sicurezza al completo. Quindi siamo già in addirittura di arrivo per quanto riguarda una nuova sede. Scuole a parte, Saladino ha voluto mettere una volta per tutto le cose in chiaro, motivando una per una le proprie scelte, come ad esempio la decisione di cambiare il segretario comunale. Siccome la legge mi consente dopo 60 giorni di aprire un concorso, ho aperto il concorso. Tanto è vero che sono prevenute 30 domande di segretari di tutta Italia. Non discuto sulla professionalità e sulla capacità di chi attualmente svolge questo compito, ma ripeto, ognuno ha le sue esigenze. A me piace essere operativo, portare avanti dei lavori e quindi vorrei una persona che sia sulla mia stessa lunghezza d'onda. Il commissario ha spiegato anche il perché della decisione di premiare i lavoratori part-time. Saranno prese in considerazione tutte quelle persone che hanno dimostrato un certo impegno, che hanno svolto un lavoro più di quello pagato. Quindi verranno premiate tutti quei dipendenti che non portano la sveglia al collo, nel senso che finite quelle ore se ne vanno. Saladino ha inoltre annunciato il recupero di un mutuo per sistemare la piscina. Il via ai lavori nelle borgate per asfaltare le strade interessate dal passaggio della rete del gas e ha spiegato perché il Comune ha deciso di rinforzare il proprio organico. Non sono vere e proprie assunzioni. Si farà una selezione di quelle persone che presenteranno la domanda. Noi abbiamo pensato di coprire l'esigenza del settore tributario perché purtroppo in questo Comune le entrate non vengono curate, ma non per malavoglia, ma perché mancano le unità. È un lavoro oneroso. Ecco perché due ragionieri, due contabili più esattamente e due amministrativi. Devo coprire le esigenze del settore finanziario perché le entrate sono un fattore importante. È quello che dà la possibilità al Comune di crescere. Torniamo a parlare della biblioteca Albino di Campobasso che da mesi versa in condizioni di difficoltà e rischia la chiusura definitiva. Un dipendente della struttura ha scritto una lettera al presidente della regione Frattura per sollecitarlo a trovare una soluzione. Ce ne parla Silvia Valente. Il Molise rischia di perdere la sua più grande e importante biblioteca, un patrimonio di oltre 130.000 volumi che dal 1861 anno della sua nascita, ha contribuito ad arricchire il bagaglio culturale di generazioni. La sua gestione, da sempre affidata alla provincia di Campobasso, ha subito un capovolgimento con la riforma del Rio, che ha tolto a lente ogni funzione di coordinamento. Il problema non è solo politico, le conseguenze si fanno concrete quando ci si trova ad affrontare il problema dei dipendenti della biblioteca, che in qualità di funzionari pubblici provinciali si sono trovati all'improvviso in mobilità. La regione avrebbe dovuto esprimersi come stabilito dalla legge di stabilità da poco approvata in Parlamento, ma ad oggi non è ancora successo. I lavoratori dell'Albino ora sono in una sorta di terra di nessuno, come ha dichiarato Giovanni Di Marzo. Il dipendente della provincia assegnato alla biblioteca ha deciso di scrivere una lettera al presidente Frattura per sollecitarlo a trovare una soluzione. Con i miei cinque colleghi, direttore compreso a scritto Di Marzo, siamo in mobilità da circa un mese. Ad esempio la biblioteca non acquista i giornali da un anno e i libri addirittura dal 2014. Le 12 persone che collaboravano con noi sono andate via da un anno esatto a concluso. Una situazione difficile che necessita di un intervento rapido e incisivo per scongiurare la chiusura di un'istituzione così importante. La biblioteca pubblica è, per definizione dell'UNESCO, una via di accesso alla conoscenza, una condizione essenziale per l'apprendimento che dà indipendenza nelle decisioni e favorisce lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. Sopprimerla significa negare tutto questo. Negare l'accesso alla conoscenza è un atto che non trova giustificazione morale, ma la richiesta dei dipendenti dell'Albino trova riscontro anche da un punto di vista giuridico. Alla Regione, infatti, il Parlamento ha assegnato nuovi compiti sulla base della legge di stabilità, fra cui quello di nominare un commissario per risolvere, in caso di inadempienza, i problemi del personale, di gestione ed economici. Torniamo a parlare di giudiziaria. Il Tribunale di Larino ha condannato a tre anni e mezzo di reclusione un uomo di 40 anni, di origini campane, ma da tempo residente in Molise, per violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. I giudici hanno accolto le richieste del pubblico ministero Carrai. I fatti risalgono a cinque anni fa, quando l'uomo violentò la giovane, non avendo mai accettato la separazione. La donna si è vista anche accogliere le richieste di risarcimento presentate dai suoi difensori, gli avvocati Roberto D'Aloisio e Luigi Occhionero. L'avvocato Marilena Astolfo, che difende l'imputato, ha annunciato ricorso in appello. C'è stato un furto con scasso nella notte in un'azienda del nucleo industriale di Termoli. I tre uomini, incappucciati, hanno forzato il cancello e poi hanno portato via un furgone carico di mobili pronti per essere consegnati per un valore di diverse migliaia di euro. I titolari hanno sporto denunce e sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Parliamo delle trivellazioni e la difesa dell'ambiente, perché occorre una scelta di responsabilità e nessuno deve rimanere spettatore pur mantenendo il proprio ruolo. Lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, presidente della CEI per il lavoro Filippo Santoro. E l'ha detto a Termoli, dove ha presentato il messaggio di Papa Francesco per la giornata della pace. C'era per noi Fabrizio Occhionero. Vincere l'indifferenza per conquistare la pace. Il messaggio di Papa Francesco è stato presentato a Termoli dall'arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro. Un'occasione per affrontare anche altri temi come la difesa dell'ambiente, le trivellazioni e lo sviluppo sostenibile del territorio. La necessità di condividere, di prendere l'iniziativa. A me è successo in varie circostanze, anche nella situazione dell'Ilva a Taranto, di far venire ministri dello Stato, ma sempre con una preoccupazione di pastore per il bene delle persone, sia quelle che hanno il problema della salute, sia quello che hanno il problema della precarietà del lavoro, sia in questo caso delle trivellazioni non solo dell'Adriatico ma anche dell'Oionio, perché deve essere giustamente creata una mentalità e qui questo si può conseguire, si può raggiungere. L'incontro voluto dal vescovo Gianfranco De Luca è stato moderato da Luigi Catelli del Centro Pastorale di Cultura e Dialogo. Santoro, responsabile della CEI per i problemi sociali e il lavoro, si è soffermato sul contenuto del messaggio del Papa per la giornata della pace, aprendosi all'attualità all'impegno condiviso per favorire il dialogo tra le culture. Molti che si dichiarano indignati per le guerre, per il terrorismo, sono i finanziatori del terrorismo, quindi della corruzione e quindi dell'ingiustizia. Perciò il Santo Padre propone azioni concrete e soprattutto la formazione di una cultura della solidarietà, della misericordia, dell'accoglienza dell'altro, del prendersi cura dell'altro. Per Santoro un'esperienza missionaria in Brasile durata 27 anni. Ora la guida della diocese di Taranto è l'impegno per favorire anche progetti dedicati al lavoro e all'inclusione sociale. La differenza tra la situazione occupazionale del sud e quella del nord è ancora molto grande, perciò lì al tempo opportuno bisogna denunciare. Ma io ho presente un'iniziativa interessante che è il progetto Policoro, che rende i giovani protagonisti sia nella capacitazione e poi nella ricerca di lavoro, ma anche le autorità, i responsabili devono offrire opportunità. Non dobbiamo noi del sud aspettare che tutte le grazie ci vengano dall'alto, ci dobbiamo muovere, rimboccare le maniche e trasformare le circostanze difficili in momenti in cui possiamo costruire qualcosa in positivo. Questa mattina, a seguito delle decisioni della Cassazione, la finanza ha restituito all'ITR i 120.000 capi ferrei, dissequestrati a seguito proprio della sentenza della Cassazione. La Procura di Serni ha comunque chiesto e ottenuto il mantenimento del sequestro delle materie prime usate per la produzione dei capi ferrei. E nasce da lunedì prossimo per l'insediamento del Consiglio la Camera di Commercio del Molise. Spariscono così contestualmente quella di Campobasso e di Sernia, lo ha annunciato il commissario ad acta della Camera di Commercio, Lorella Palladino. E adesso vi parliamo dell'interessante mostra fotografica Non aprite che all'oscuro, curata da Flavio Brunetti, all'ex Gil di Campobasso, sono state esposte foto di cento anni fa che raccontano il Molise in un intreccio di piccola e grande storia. Sentiamo il servizio di Tonino Danese. Foto che raccontano il passato, volti di uomini, donne e bambini di cento anni fa, nessun sorriso di fronte alla macchina fotografica. Quella macchina che doveva apparire così strana all'epoca, capace di dare immortalità un attimo, una situazione di raccontare ai posteri un evento, un pezzo di storia personale ma anche collettiva. Foto esposte alla ex Gil di Campobasso per la mostra Non aprire che all'oscuro, curata da Flavio Brunetti. Scatti che parlano del Molise, del Meridione, di emigrazione, di volti segnati dalla vita, dalla fatica, anche dalla miseria. Il poliedrico, ingegnere campobassano, fine artista e intellettuale, ha realizzato un catalogo che è un suo racconto nel quale spiega come è venuto in possesso di un migliaio di lastre fotografiche dei primi del Novecento. L'acquisto casuale da due robi vecchi di fronte allo studio, la scoperta che quelle foto da sviluppare finite in Puglia erano state scattate a casa calenda da Luigi Mastrosanti e il destino ha voluto che arrivassero a Brunetti. A lui è toccato dare luce, vita, volti a chi non c'è più a quelle lastre. Nel catalogo Flavio Brunetti ha creato una sorta di antologia di Spoon River molisana, dando corpo e storia agli sposini agghindati per la festa, ma con le scarpe schizzate di fango. Allo sposo dai capelli a cespuglio, a quei giovani pronti a partire per il fronte, a chi invece stava per emigrare, ai contadini. A ritratti di famiglie, donne, con i mariti lontani o che si mostravano i promessi. Al matrimonio per la strada polverosa, con le galline a scorrazzare un falegname con la barra sulle spalle, il contrasto della vita e della morte. La tenerezza, poi, di quello scatto che ritrae la mamma di Brunetti, di Casa Calenda, che abitava vicino al fotografo, ha scoperto con un tuffo al cuore l'ingegnere sviluppando le lastre. Banalmente si potrebbe pensare che la fotografia, fermando il tempo, ferma anche lo spazio e quindi dà la morte. Invece non è così. In una sorta di metempsicosi la fotografia riesce a dare la vita, a restituire i sogni alla materia e la materia diventa esso stesso sogno. Foto tenere ma anche amare, dolorose, come quelle dei volti dei morti, del giovane nella bara, dei bambini, della donna con in braccio il corpicino senza vita della figlia, come una pietà. La mostra di Brunetti sotto l'egida della Fondazione Molise Cultura resterà aperta fino al 28 febbraio e ci saranno anche eventi collaterali, incontri. Allestito pure uno spazio con la riproposizione di una stanza da posa e di un fotografo di un secolo fa. Una mostra interessante da visitare. La voce di Camilla è il titolo del cortometraggio scritto e diretto dal regista di Campobasso William Mussini, che ha vinto per l'Italia l'Eurofilm Festival 2016, quello che si è appena concluso in Spagna. L'interprete femminile Simona Vaccarella è una scoperta dello stesso regista, come pure la scommessa vinta dalla piccola Camilla De Luca, atleta di ginastica ritmica. Il ruolo maschile è stato affidato a Giulio Maroncelli, già noto attore di Campobasso. Inglese, informatica, innovazione. È stato presentato alla Giovanni XXIII di Sernia il piano di formazione didattica, che prevede corsi di informatica, laboratori scientifici e soggiorni all'estero per gli studenti della Scuola Media di Sernia. C'era per noi Enzo Di Gaetano. Giornata speciale per la Scuola Media Giovanni XXIII di Sernia. l'istituto guidato dalla dirigente Rossella Simeone ha illustrato la sua offerta formativa con tutte le novità presentate dal collegio dei docenti, dall'aula di informatica al corso di programmazione, con un campionato finale previsto in primavera a Caprocotta per premiare il più bravo programmatore in erba, passando poi per i laboratori di scienze italiano e lingue straniere. Senza dimenticare i laboratori di musica e orchestra. Un'offerta formativa che prevede anche soggiorni all'estero, con il programma Comenius per gli studenti più meritevoli e con lo sport in primo piano. Infatti anche quest'anno un gruppo dei ragazzi della Giovanni XXIII sarà protagonista di una settimana bianca sulle piste di Campitello. Le proposte della scuola sono state illustrate in una giornata dedicata tutta ai genitori e agli alunni delle quinte elementari delle scuole isernine, per far conoscere loro l'offerta formativa di una delle più competitive scuole medie della regione molise. Parliamo ora di manifestazioni religiose perché sono tante le comunità che in Molise si stanno preparando alla notte dei fuochi di Sant'Antonio Abate. Vediamo gli appuntamenti ad Acquevive di Frosolone, Torella e Campobasso per questo fine settimana. Ce ne parla Patrizia Testa. Il Molise si prepara a festeggiare Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Tanti falò saranno accesi tra il 16 ed il 17 gennaio. Ad Acquevive di Frosolone tutto si svolgerà nella notte del 16. Sabato sera si accenderà il fuoco. Tradizione vuole che poi le squadre, sia di Acquevive che quelle provenienti dai paesi vicini, come Duronia, Civitanova ed anche Frosolone Centro, percorrano le vie del paese intonando canti di ringraziamento perché ad Acquevive sono molti gli allevatori devoti al Santo. La domenica inizierà con la celebrazione della Santa Messa a cui seguirà la benedizione degli animali. A Torella, la mattina di sabato 16, i giovani cantori di Sant'Antonio animeranno la funzione in chiesa per partire poi alla volta dei fuochi. 16 quest'anno quelli accesi tra le strade del paese, Contrade e Rioni. La sera, in piazza San Rocco, che ospiterà il falò più grande, uno stand gastronomico di prodotti tipici accoglierà i visitatori. Anche il quartiere di Sant'Antonio Abate a Campobasso si sta preparando a vivere questa antichissima festa, da qualche anno riproposta con successo. Il 16 sarà raccolta la legna e preparato il falò. Domenica 17 il fuoco e gli animali saranno benedetti. Nel pomeriggio si porterà in processione il santo e l'arcivescovo Bregantini celebrerà la messa. Infine, in serata, un momento musicale a cura di Nicola Mastropaolo, uno spettacolo che proporrà canzoni campobassane e maitunate. Tanti allora gli appuntamenti per onorare il patrono degli agricoltori e protettore degli animali domestici. Termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.